Dunque ci sono novità importanti per il futuro prossimo della nostra regione. Si è conclusa infatti la cabina di regia sulle norme anti-covid e dai dati emerge che l'Abruzzo dovrebbe entrare nella cosiddetta zona bianca dal prossimo 7 giugno. Ma cosa comporterà questo ingresso? Noi lo chiediamo alla nostra inviata Anna Di Giorgio che vedo sul mio monitor. Lo saluto e ringrazio. A te la parola Anna. Buonasera Antonella, buonasera a te, buonasera anche ai nostri telespettatori. Dicevi bene, la bella notizia di oggi, di questa sera, è che dal 7 giugno l'Abruzzo dovrebbe entrare nella zona bianca, così come stabilito dalle norme, insomma dalle decisioni che sono state prese nella cabina di regia che si è da poco conclusa con anche il Premier Draghi. Tutto questo perché? Perché i contagi diminuiscono nella nostra regione e ricordiamo che i requisiti per entrare in zona bianca dovevano essere uno scenario di tipo 1, quindi un rischio basso, e un'incidenza settimanale di contagi inferiore a 50 su 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Numeri che quindi lasciano ben sperare, ci fanno pensare proprio che dal 7 giugno potremo entrare in questa zona bianca insieme ad altre regioni. Le prime tre regioni, tra cui anche il Molise, dovrebbero entrarci già dal 1 giugno, poi dal 7, toccherà anche l'Abruzzo insieme ad altre regioni, per la precisione Veneto e Liguria insieme all'Abruzzo dal 7 giugno. Invece Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna entreranno in zona bianca già dal 1 giugno. Tutto questo cosa cambia? Cambia sostanzialmente nella abolizione del coprifuoco, quindi spostamenti liberi, rimarranno comunque le regole fondamentali della responsabilità che ognuno di noi ha dovuto attuare in questi lunghi mesi di pandemia, quindi distanziamento, comunque la mascherina, comunque l'igiene personale. Ma ovviamente ci sarà una maggiore riapertura, una maggiore libertà e ovviamente, come è stato stabilito intanto anche dal cronoprogramma delle nuove riaperture di cui si è discusso anche nel corso della cabina di regia, ci saranno ovviamente poi via via anche nuove regole che andremo ad approfondire magari anche domani nel corso del nostro notiziario. Intanto quindi dal 7 giugno zona bianca, la novità principale che è emersa da questa cabina di regia riguardava proprio il coprifuoco per la verità che era stato oggetto di discussione per parecchie settimane, per fare già ormai da diversi giorni, dunque dal 21 giugno comunque il coprifuoco dovrebbe sparire in sostanza per tutto il nostro stivale, per tutta l'Italia. Queste sono le notizie principali che emergono e che riguarderanno in qualche modo la nostra regione. Quello che invece possiamo dire a questo punto, scusate, questo è anche il bello della diretta, ho perso l'agenda, volevo anche concentrarmi però a questo punto sul bollettino sanitario, sui dati di oggi, dicevamo i contagi diminuiscono, infatti nel bollettino di oggi si contano 20 nuovi positivi al Covid-19 di età compresa tra 8 e 69 anni, su 787 tamponi molecolari effettuati, 405 tamponi rapidi e la percentuale dei positivi passa all'1,7%. Il bilancio dei deceduti va aggiornato con tre nuovi decessi in più, il totale di 2.457, i tre decessi conteggiati nel bollettino di oggi hanno un'età compresa tra 62 e 82 anni. Va aggiornato anche il bollettino dei dimessi guariti che oggi sono 108 in più rispetto a ieri, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 6.877 con un decremento di 51 unità. I posti letto occupati in ospedale sono 202, il numero fa registrare un più 3 in questo bollettino. I posti letto invece occupati in terapia intensiva sono 21, con un dato che oggi fa scendere questo dato di meno 1. E poi in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle ci sono 6.654 persone, meno 93. La provincia di Chieti è quella che fa registrare 17 contagi in più, seguita da quella dell'Aquila con un più 2 e da quella di Teramo con un più 1. Tutto questo quindi in estrema sintesi anche per quel che concerne i dati del contagio nel bollettino sanitario di oggi, Antonella. Vedo che se fuori, se non sbaglio, dalla palafiere di Via Tirino dove si stanno seguendo i vaccini, oggi c'è una novità perché è possibile per gli over 40 prenotarsi attraverso la piattaforma delle poste e in tanti altri modi che potete trovare anche sul nostro sito di informazione. Sta andando tutto per il meglio, almeno così sembra. Sta andando bene Antonella, oggi primo giorno di apertura per gli over 40 sulla piattaforma. Ci siamo anche noi, possiamo dirlo. La bella notizia è che oggi siamo riusciti a prenotarci anche noi, insomma. Sì, con molta facilità, ci tocca, ci tocca, ci tocca e con molta facilità dobbiamo dire. Allora sei stata esauriente, io ti ringrazio e ti auguro una buona serata.